Allora, io vi do il benvenuto e ringrazio il Presidente che ha patrocinato questa iniziativa, ringrazio anche i relatori, questa sera abbiamo qui con noi Giovanna Raffella Stumpo, esperta in organizzazione e marketing per gli studi legali, il dottore Emanuele Chiari, che è un rappresentante di un ente di certificazione, l'avvocato Vincenzo Blasi, che è stato un pioniere in zona perché è stato veramente uno dei primi avvocati in Italia ad essere stato certificato, pensate che attualmente non credo che siano più di 70 gli avvocati in tutta Italia certificati. In Ancona sì, ce ne sono tre. E poi abbiamo l'ingegnere Roberto Targa della SoftLab che ci spiegherà come un gestionale può integrarsi con la qualità. Allora, come avete visto, negli ultimi tempi stanno aumentando gli incontri, i seminari, libri sull'organizzazione e sulla qualità. Ovviamente dobbiamo chiederci per quale ragione tutto questo interesse per l'organizzazione, per il marketing, per la qualità. Allora, io vorrei innanzitutto sgombrare da un equivoco di fondo che c'è, perché spesso quando si parla di marketing lo si identifica con la pubblicità, con la promozione. In realtà il marketing è una funzione molto più complessa. La promozione rappresenta uno degli aspetti del marketing. E lo stesso discorso vale per la qualità. Quando parliamo di qualità parliamo soprattutto di organizzare uno studio legale secondo determinate metodologie. Poi ci può essere la certificazione che è qualcosa in più, che è qualcosa che ci può ritornare indietro come immagine, ma che non necessariamente fa parte dell'organizzazione. E allora ho preparato questa mappa per rispondere alla domanda per quale ragione oggi è fondamentale organizzarsi. In parte ha già risposto il Presidente nella sua introduzione. Allora, secondo me ci sono due motivi fondamentali. Il primo, innanzitutto, è perché è diventato molto più complesso gestire uno studio legale. Il secondo motivo è perché è diventato più difficile entrare, restare e crescere nel mercato dei servizi legali. Vediamo allora per quale ragione è diventato più complesso gestire uno studio legale. Allora, ingrandiamo la nostra mappa. e vediamo. Il primo motivo di fondo, a mio avviso, è quello di nuovi adempimenti. Allora, facciamo un salto indietro nel tempo. Andiamo all'inizio degli anni 90. L'avvocato entra in studio, inizia la sua giornata lavorativa e apre il suo fascicolo. Ha obblighi in materia di privacy? Informativa, consenso, misure minime di sicurezza, firewall, backup dei dati? No, non ha nessun tipo di obbligo. Ha obblighi in materia di antiriciclaggio? Istituzione dell'archivio unico? Obblighi di identificazione, registrazione, conservazione, segnalazione? Assolutamente no. Ha obblighi verso i dipendenti ai sensi della legge 626? No, all'inizio degli anni 90 questi obblighi non sono ancora entrati in vigore. Ha obblighi dentologici come ad esempio quelli della formazione permanente? Sì, il codice dentologico lo prevede, ma non prevede come quello attuale dei crediti formativi. Quindi vedete tutta una serie di nuovi adempimenti che naturalmente richiedono organizzazione. Ma andiamo avanti. Un dato che a mio avviso è spesso sottovalutato è quello del processo civile. All'inizio degli anni 90 c'era quello che oggi, se passa il decreto di legge Mastella diventerà il vecchissimo rito, in cui tutto era possibile. Noi arrivavamo alla quindicesima udienza fissata per la precisazione delle conclusioni in assenza di eventuali deduzioni istruttorie, come si usava verbalizzare e lì magari si chiedeva l'interrogatorio formale. Oggi il nuovo processo civile è strozzato dalle preclusioni. Quindi dimenticarsi un'udienza, dimenticarsi o sbagliarsi, come purtroppo qualche volta capita, di registrare una scadenza significa verosimilmente perdere la causa. E ci sarebbe da chiedersi se tutto questo è sensato. A questo si aggiunge la moltiplicità di riti. Se passa il disegno di legge Mastella avremo quattro riti ordinari, il che ovviamente richiede molta organizzazione, sapere bene per ogni fascicolo, per ogni pratica, quale rito è applicabile. A tutto ciò si aggiunge le continue modifiche normative. E questo che cosa comporta? Comporta l'incertezza del diritto, perché ovviamente ogni volta che si cambia anche molto rapidamente la normativa, la giurisprudenza deve consolidarsi e finché non arriva dopo cinque anni magari la sentenza delle soluzioni unite, non sappiamo come regolarci. E quindi questo richiede una formazione continua, un'attenzione continua. A questo si aggiunge anche una degenerazione della tecnica normativa che ormai è denunciata a tutti i livelli e che fa sì che noi oggi avvocati, cito per fare un esempio, se volessimo impugnare la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 23 della legge di depenalizzazione, la 689 dell'81, non sapremmo che atto adottare, ricorso o citazione? Perché questo il legislatore non l'ha detto. Ha detto semplicemente che le sentenze sono appellabili e tutto qua. E quindi già adesso si sono verificati dei contrasti di giurisprudenza e addirittura alcuni giudici hanno dichiarato irricevibile l'impugnazione proposta con ricorso che il collega aveva presentato in base al principio dell'ultraattività del rito, anziché con citazione. Quindi noi ci troviamo veramente in un periodo molto difficile. E ancora la velocità, la velocità con cui vengono chiesti i servizi dai clienti, con cui cambia la società, con cui cambia la normativa. Un altro dato a mio avviso molto importante è quella della modifica della composizione degli studi. Oggi è un'ipotesi abbastanza frequente, quella per il quale più professionisti autonomi dal punto di vista giuridico si ritrovano sotto lo stesso tetto, dividendo magari le spese. Questo però comporta la necessità di organizzarsi, perché magari si acquistano strumenti in comune, si devono gestire i praticanti, quindi è normale dover gestire tutto questo in una logica di organizzazione. E ancora è modificata la clientela. È più preparata, è molto più esigente, vuole il servizio in minor tempo e a minor costo, è consapevole del fatto che c'è molta concorrenza tra avvocati, quindi può naturalmente scegliere. Si avvale di numerosi altri consulenti, quindi l'avvocato non è l'unico referente al commercialista, al consulente del lavoro, al consulente aziendale, al notaio, al consulente finanziario. Ed è consapevole che può agire contro il legale per essere esercita a causa di eventuali errori. Ed è un dato di fatto che stanno aumentando le cause di responsabilità contro i medici, lo sappiamo tutti, contro i notai, contro gli avvocati. Andiamo avanti nella nostra indagine. Abbiamo detto che, come dicevamo poco fa, come diceva poco fa il Presidente, questo è un mercato molto competitivo. Dove abbiamo competizione interna, cioè tra gli avvocati, che sono sempre più numerosi, ma anche la competizione esterna. Quindi abbiamo società di recupero crediti, associazioni di categoria, associazioni di consumatori, sindacati, società di consulenza, patronati. E poi abbiamo un'altra caratteristica che io ho chiamato competizione anomala. Oggi molti clienti fanno da soli, per la semplice ragione che in internet, ad esempio, è possibile trovare qualsiasi tipo di informazione. Quindi io credo che nel giro di cinque anni la consulenza che verrà richiesta agli avvocati sarà una consulenza di tipo molto specialistico, perché la consulenza di base, comunque il cliente, se la può fare da solo. Oggi qualsiasi tipo di contratto può essere scaricato da internet, qualsiasi tipo di lettera, qualsiasi tipo di informazione si può trovare in internet. Naturalmente è aumentata la pressione fiscale, quindi questo comporta un aumento di costi. E infine vanno anche segnalati alcuni interventi normativi, perché l'indennizzo diretto e la riforma fallimentare indubbiamente vanno a erodere una torta che già è stata mangiata. Perché l'indennizzo diretto sappiamo ha ridotto drasticamente gli onorari per gli avvocati, la riforma fallimentare che ha ridotto drasticamente il numero di fallimenti, la riforma della revocatoria fallimentare che lo stesso ha ridotto le azioni di revocatoria. Quindi vedete come sia forse un panorama un tempo tragico. Ma l'organizzazione, io l'ho tratto per ultimo, in realtà dovrebbe essere il primo aspetto, migliora la qualità della vita. Perché ovviamente avere un sistema organizzato, monitorato, in cui tutti sanno esattamente che cosa fare, in cui si pianifica il controllo delle pratiche e delle scadenze, fa sì che si abbia meno ansia, si abbia più tempo a disposizione e chiaramente tutto questo migliora la facilità di raggiungere i propri obiettivi. Bene, detto questo passiamo all'oggetto vero e proprio della mia relazione, e cioè la non qualità, comportamenti disfunzionali nello studio legale. Allora, come è nata questa mappa? A un certo punto, circa un anno fa, io e alcune colleghe, in particolare l'avvocato Lucia Paolinelli e l'avvocato Giuseppina Galli, ci siamo posti una domanda, cioè come possiamo organizzare meglio i nostri studi? La risposta è andata alla norma ISO 9001-2000. Abbiamo comprato la norma, abbiamo iniziato a leggerla e probabilmente il manuale del gazzone in tedesco è più semplice della norma ISO, soprattutto perché è una norma generale, astratta ed è una norma tecnica. Per cui abbiamo chiuso la norma, abbiamo detto ok, facciamoci una domanda, e cioè che cos'è che non va nei nostri studi? Che cos'è che possiamo definire di non qualità all'interno del nostro studio? E così abbiamo cominciato a buttar giù delle risposte, ci siamo confrontati, ma non solo, poi abbiamo cercato di ripescare le esperienze che avevamo avuto nel passato, quando lavoravamo negli studi legali, oppure le esperienze dei colleghi, così abbiamo cominciato a buttar giù tutta una serie di elementi di non qualità che poi abbiamo sistematizzato in una mappa. Ne è venuto fuori che, come vedete, in un arco temporale noi realizziamo un servizio tipico in un ambiente fisico, in un contesto normativo, instaurando relazione con gli stakeholders, cioè con tutti i soggetti che vengono in contatto con lo studio, con una gestione finanziaria. In queste cinque macro aree si realizzano tutta una serie di comportamenti disfunzionali. Oggi non abbiamo tempo per vederli analiticamente tutti quanti, io mi concentrerò soprattutto sul primo aspetto, però sinteticamente li vediamo. Allora iniziamo dalle disfunzioni che riguardano il tempo. Il tempo è fondamentale, perché tutto ciò che noi facciamo lo facciamo in un contesto temporale. Quali sono gli elementi disfunzionali? Rimandare il compimento di attività, lavorare costantemente nell'urgenza, perdere tempo in attività futili, permettere le interruzioni, trattare più cose contemporaneamente, lasciare i lavori a metà e non approfondire lo studio delle questioni. Vedremo dopo, tra pochissimo, come con un sistema di time management, cioè di gestione manageriale del tempo, noi possiamo migliorare comunque la nostra gestione del tempo. Non è corretto dire gestione del tempo perché il tempo non si gestisce. Ho 24 ore io, avete 24 ore voi, poi c'è il collega che si alza al mattino alle 5 in studio alle 5 e mezza, c'è quello che ci va alle 9, ma la giornata è sempre di 24 ore. Il tempo non si gestisce. Noi gestiamo noi stessi in relazione all'attività che vogliamo compiere. Quindi selezionando tra le cose che facciamo, attività importanti e attività meno importanti. Ma su questo ci arriviamo dopo. Dicevamo che realizziamo un servizio tipico, che è fatto della gestione di una pratica, della gestione di colloqui, naturalmente con i clienti, con i colleghi, con le controparti, colloqui che possono essere di persona oppure telefonici. Gestiamo documenti, e questo è un dato molto importante. Abbiamo documenti dello studio, documenti di terzi, documenti del cliente, documenti cartacei, documenti informatici, oggetti. E in relazione a questi, che cosa facciamo? Li acquisiamo, li conserviamo, li comunichiamo, li riconsegniamo e li distruggiamo. In riferimento a tutte queste attività si possono individuare elementi disfunzionali. Abbiamo poi la gestione di addempimenti, giudiziali, stragiudiziali, arbitrali, di cancelleria con gli uffici pubblici, la gestione naturalmente delle udienze e la gestione delle negoziazioni. Vediamo allora sinteticamente in che cosa consistono questi elementi di disfunzionalità. Prendiamo ad esempio nella gestione della pratica. Rappresentano comportamenti disfunzionali accettare incarichi troppo complessi, ad esempio. Accettare incarichi nonostante non si abbia tempo. Accettare incarichi incongruenti rispetto ai propri fini. Dimenticare le scadenze. Non avere criteri per l'assegnazione delle pratiche ai collaboratori. Non stabilire dei tempi di evasione. Quando si consegna una pratica a un collaboratore, gli si dovrebbero dare informazioni chiare, soprattutto sulla scadenza. Questo atto lo voglio entro cinque giorni. Lavorare senza strumenti fondamentali, chiaramente banche dati, libri, software, internet. Ritardare i compimenti di atti. Non pianificare il lavoro. Oppure pianificare il lavoro in ritardo. E ancora perdere tempo. Questo l'abbiamo visto sopra nella gestione del tempo. E fare soprattutto le cose all'ultimo minuto. Dicevo che non abbiamo tempo per affrontarli tutti. Oggi mi voglio concentrare sulla questione della gestione del tempo. Perché nessuno può dirsi immune dal tempo. Anche il bambino che va alla scuola elementare ha bisogno di un sistema di gestione efficace del tempo. A mio avviso dovrebbe essere insegnato all'elementare. Allora, il primo passo da compiere è quello di capire che non tutto quello che noi facciamo è importante e urgente allo stesso modo. Ci sono attività importanti, ci sono attività non importanti. Ci sono attività che richiedono urgenza. Ci sono attività che non richiedono urgenza. E allora noi possiamo avere diversi risultati. Quindi ci sono attività non importanti e non urgenti. Ci sono attività non importanti ma che hanno un carattere di urgenza. Ci sono attività importanti e urgenti. E ci sono attività importanti e non urgenti. Cerchiamo di capire che cos'è che fa di un'attività un'attività importante. Ragionando, perché ho dedicato molto tempo a riflettere sulla gestione del tempo, leggendo soprattutto gli scrittori americani, ho capito che l'importanza è allo stesso tempo assoluto, è un concetto assoluto e un concetto relativo. Perché è un concetto assoluto. È un concetto assoluto perché ci sono determinate attività che sono importanti sia per il giovane avvocato che è appoggiato in una struttura e sia per l'avvocato che ha 10 collaboratori o per il senior partner di un grandissimo studio legale. E sono ad esempio lo studio delle pratiche più complesse, la redazione degli atti più importanti, la partecipazione a negoziazioni più importanti, lo svolgimento dei processi più difficili, più complessi, chiaramente l'aggiornamento professionale, le pubbliche relazioni che rappresentano un'attività fondamentale per l'avvocato. La pianificazione strategica, cioè capire dove siamo oggi e dove vogliamo essere fra cinque anni. Il marketing, cioè come migliorare la qualità del nostro servizio e naturalmente il controllo sugli adempimenti normativi, sull'attività dei delegati, sulla gestione finanziaria, eccetera. Queste sono attività che grossomodo sono importanti per tutti e che in genere non dovrebbero essere delegate. Poi ci sono attività che sono importanti in senso relativo. Sono importanti in senso relativo perché dipende fondamentalmente dall'organizzazione che io ho in studio. Faccio un esempio, il decreto ingiuntivo o l'atto di precetto. Allora per il giovane avvocato che non ha praticanti, che non ha collaboratori, l'atto di precetto, il decreto ingiuntivo è sicuramente un atto importante. Perché? Perché non lo può delegare a nessuno. Ma un legale che ha dieci anni di esperienza, che ha giovani collaboratori, eccetera, non dovrebbe neanche perdere il tempo per fare un decreto ingiuntivo o per fare un precetto. E questo è un esempio. Perché ci sono i giovani collaboratori che devono fare questo. L'avvocato deve concentrarsi sulle cose più importanti, perché sono quelle che fanno la differenza. Non sono le cose che, ne so, preparare la minuta per la segretaria per dire che l'udienza è stata rinviata e magari lasciare che il praticante, come purtroppo capita, studi una pratica complessa o faccia un ricorso in cassazione o un'impugnazione in atto d'appello. No, le cose non importanti le fanno chiaramente coloro che nella scala gerarchica sono a un livello più basso. L'avvocato si concentra nelle attività importanti. Quindi in questo senso sono relative. Dipendono dall'organizzazione di studio. Quindi fra vent'anni probabilmente certe attività che io oggi reputo importanti non lo saranno più. L'altro requisito fondamentale è l'urgenza. Allora noi lavoriamo costantemente nell'urgenza. Perché? Fondamentalmente perché nulla come l'urgenza ci motiva. Cioè se io so che ho tre giorni di tempo per fare una comparsa di Costituzione e risposta o un atto di appello, in quei tre giorni darò il massimo. Quindi è motivante. Però significa sempre recorrere a regimi altissimi. E questo alla lunga naturalmente stanca. Poi arriva lo stress e soprattutto se noi lavoriamo costantemente nell'urgenza non possiamo dedicarci ad attività importanti. Allora riguardo l'urgenza bisogna capire una cosa. Che esistono due tipi di urgenze. Ci sono le urgenze che sono inevitabili e le urgenze che le provochiamo noi. Allora l'urgenza inevitabile mi arriva la comunicazione che sono stato nominato difensore in un processo penale la stessa mattina. La devo fare io? Non c'è altra possibilità. Oppure il cliente mi porta un decreto ingiuntivo dopo 37 giorni dalla notifica. È chiaro che quella è un'urgenza. Se io voglio fare l'opposizione bisogna che la faccia e ho tre giorni. Però ci sono tutte quelle urgenze che provochiamo noi. Allora l'intimazione testimoniale la prendiamo tra le mani sette giorni prima della scadenza e poi magari l'ufficiale giudiziario non trova il test e quindi via tutto. Oppure dobbiamo mandare un fascicolo a un collega che si deve costituire a Reggio Calabria e facciamo tutto all'ultimo minuto. Quindi via chiamare Traco 10 per spedire il plico. Sono tutte cose che abbiamo provocato noi perché non siamo riusciti a pianificare il lavoro. E allora quali sono i consigli che non sono miei consigli ma sono i consigli soprattutto della scuola americana. Mi riferisco a Stephen Covey, Brian Tracy, cioè grandi manager Peter Drucker che hanno studiato l'organizzazione all'interno dell'azienda. Loro consigliano di adottare un sistema di gestione manageriale del tempo che individuate le attività importanti e urgenti e selezionate soprattutto le attività importanti e tolte di mezzo tutte quelle non importanti ci consentono di raggiungere maggiori risultati. Anzitutto la prima cosa da fare è fare una lista delle cose da fare per organizzare meglio il lavoro. Una volta fatta questa lista noi dobbiamo attribuire un codice di importanza e di urgenza. Ad esempio molti utilizzano la tecnica dell'ABCDE e quindi l'A è l'attività più importante, poi abbiamo la B, poi abbiamo la C e così via. Se ci sono più attività A dobbiamo fare A1, A2, A3. Il terzo passo consiste nello stimare il tempo necessario per compiere l'attività perché spesso ci facciamo prendere come dire dall'ansia perché sovrastimiamo il tempo che ci serve per compiere determinate azioni. Allora sappiamo che dobbiamo fare 10 telefonate, 5 lettere, 4 atti e andiamo subito in ansia perché vediamo questa lunga lista di cose da fare. Innanzitutto bisogna capire quanto tempo ci vuole per svolgere questa attività perché spesso poi una telefonata dura 5 minuti allora se io faccio l'elenco di tutte le cose che devo fare magari vedo che in realtà tutte le telefonate mi richiedono mezz'ora, quindi non era così drammatica la situazione. Il quarto passo consiste nello spalmare e questo è fondamentale nel tempo l'attività, cioè è inutile fare una lista con 50 cose e dire ok oggi mi metto e le faccio tutte quante o se no il mito approfitto del weekend e poi non si fa mai per fare tutto quanto. No, se non ci sono attività particolarmente urgenti queste vanno spalmate nell'arco di una, due settimane. Il quinto passo è delegare tutto ciò che può essere delegato. La delega è un aspetto fondamentale, cioè noi dobbiamo avere il coraggio e la fiducia di delegare i compiti che possiamo delegare ai nostri collaboratori. Naturalmente dobbiamo sapere che delegare non è abdicare e quindi non è corretto, come purtroppo qualche volta capita, che un avvocato si spoglia della redazione di un atto complesso e lo fa fare magari un collaboratore che non è preparato ancora per quello perché magari lui si dedica ad altre attività meno importanti, come ho detto preparare la minuta per la segretaria per avvisare i clienti che l'udienza è stata rinviata il 15 marzo. Quindi dobbiamo sapere cosa deleghiamo, a chi deleghiamo, con quale scadenza è chi controlla il lavoro del delegato. Un'altra caratteristica fondamentale di coloro che sanno gestire bene il tempo è quella di individuare i momenti migliori della giornata, perché la tentazione e l'errore che commettiamo è quello di non capire che nell'arco delle 10-12 ore lavorative, normalmente un avvocato lavora queste ore, noi non siamo sempre allo stesso livello. Abbiamo dei momenti della giornata in cui abbiamo dei picchi di produttività e dei momenti, ad esempio dopo i pasti, in cui abbiamo una produttività più bassa. Allora uno dei segreti è proprio questo, cioè nei momenti in cui io do il massimo, io svolgo i compiti più difficili e più complessi. Nel momento in cui invece io non sono particolarmente lucido, perché magari è l'ora dopo pranzo, faccio le cose meno importanti. Altro aspetto fondamentale che io ho testato e devo dire mi ha dato veramente grande soddisfazione è quello di ritagliarsi in momenti di assoluta solitudine, cioè dei momenti in cui solo nel caso in cui scoppi un incendio all'interno dello studio qualcuno può entrare in stanza, se no non deve entrare nessuno, non ci sono sms, non c'è posta elettronica, non ci sono telefonate, non ci sono interruzioni di alcun tipo. Beh io vi assicuro che ritagliando nell'arco della giornata anche tre di questi momenti, gli studiosi consigliano 55 minuti perché 55 minuti, un'ora è il tempo in cui si riesce a mantenere la concentrazione, poi bisognerebbe fare una piccola pausa. La tecnica di 55 minuti, ad esempio tre periodi di 55 minuti nell'arco della giornata, in assoluta solitudine, può fare veramente la differenza. Un altro consiglio che danno è quello di lavorare con il cronometro, quindi inizio a lavorare per 55 minuti, faccio partire il cronometro, per 55 minuti mi dedicherò solamente a questa pratica e non accetterò nessun tipo di interruzione. Questo perché è quello che bisogna evitare la zona grigia. La zona grigia si intende quei periodi in cui non sono totalmente concentrato, non sono totalmente disconcentrato. In realtà il segreto è o essere totalmente concentrati o essere completamente sconcentrati. Quindi o sono completamente focalizzato sul lavoro che sto facendo, oppure sono completamente sconcentrato, esco, faccio due passi, prendo un caffè, faccio una chiacchierata con il collega, mi distraggo. Quello che va evitato è la zona grigia in cui comincio a fare una comparsa conclusionale, entra il collega, entra il praticante, arriva la telefonata, eccetera. Anche perché spesso le interruzioni non sono di assoluta importanza. Mi riferisco soprattutto alle interruzioni telefoniche. Io ad esempio nel mio studio ho adottato una procedura che devo dire sta funzionando molto bene per sbarrare le telefonate dei vari venditori, che ormai ogni giorno 5, 6, 7 telefonate arrivano. In segreteria c'è un filtro, c'è un filtro che quando arriva la telefonata, perché adesso utilizzano delle tecniche più avanzate, dico sono Laura Rossi, c'è l'avvocato Minardi? In segreteria si dice per quale pratica chiama? Ah no guardi non è per una pratica in realtà chiamiamo per promuovere un servizio, no guardi l'avvocato non è interessato. E questo è fondamentale, noi dobbiamo riuscire a bloccare i ladri del tempo, perché è calcolato che se io sono profondamente concentrato in un'attività, occorrono dieci minuti dopo un'interruzione per rientrare in quello stato mentale. Quindi assolutamente nessuno deve permettersi di rubarci del tempo in questo modo, soprattutto se è tempo inutile, come pure ad esempio bisogna addestrare i praticanti che non devono bussare ogni volta per chiedere come si fa una cosa o come si fa un'altra cosa. Innanzitutto devono prima esperire tutti i tentativi possibili per risolvere da soli i problemi e poi solo in determinati casi, ma quando la porta del nostro ufficio sarà aperta, potranno chiederci i chiarimenti. Dicevo prima eliminare le distrazioni, quindi sms, email, internet, io ad esempio recentemente da Outlook ho tolto quella funzione che ti avvisa quando arriva la posta elettronica, che c'è il segnale acustico, c'è l'immagine, perché mi sono reso conto che distraeva, perché poi la tentazione è forte, chi ha scritto? Vada a vedere. E questa è una forma sicuramente disfunzionale, non corretta di gestire il proprio tempo. Altro suggerimento che ci danno gli esperti di time management è quello di mangiare l'elefante a fette. E cioè cosa accade? Perché in genere noi tendiamo a procrastinare il lavoro? Perché dobbiamo fare la comparsa conclusionale di un giudizio che è durato dieci anni, quei fascicoli alti 15 centimetri, e già solo la visione del fascicolo è veramente di quelle che stenderebbero qualsiasi persona. Allora loro consigliano di mangiare l'elefante a fette, quindi oggi dedico un'ora ad esempio per leggere tutti i verbali. Fra due ore oppure il giorno successivo leggerò tutti gli atti. Al terzo giorno, dopo che avrò letto tutti i verbali e tutti gli atti, faccio la comparsa conclusionale. Cioè se noi un compito molto molto gravoso lo dividiamo in compiti più piccoli, ecco che lo affrontiamo sicuramente con più semplicità. Altro consiglio, dicono gli americani, se c'è da mangiare un rospo si mangia subito, se ce ne sono due si inizia dal più grosso. Che significa? Che se ci sono due compiti, quindi devo fare una lettera oppure devo fare una comparsa, vabbè inizio dalla lettera, perché questa è la tentazione che abbiamo. Prima si inizia sempre dal compito più importante, dal compito che fa la differenza per noi e poi si fanno i compiti più semplici. Invece la tentazione è di iniziare sempre dal compito più semplice, magari arriviamo alla fine della giornata e diciamo oggi ho lavorato tantissimo, cosa ho fatto? Telefonate, lettere, però quell'atto di citazione che doveva partire è rimasto lì, ancora del tempo, e sta lì e fa polvere. Altra cosa fondamentale è sfruttare i tempi morti. Noi abbiamo una grossa fortuna ma non ce ne rendiamo conto, cioè abbiamo la possibilità di venire in tribunale, fare le udienze, scambiare due chiacchiere con i colleghi e questo è sicuramente molto piacevole. Tuttavia sappiamo che in tribunale ci sono tantissimi tempi morti. E quale migliore situazioni allora per ad esempio portare dietro una rivista giuridica, io qualche volta eccedo perché porto dietro anche il portatile, però una rivista giuridica oppure magari un fascicolo che possiamo studiare? Questi sono i momenti migliori se uno riesce a trovare la concentrazione per guadagnare tempo. Un'altra cosa che io faccio ad esempio è registrare su un MP3 dei corsi o ascoltare dei corsi che ho acquistato mentre vado in macchina, mentre vado in giro. Questo mi dà la possibilità di sfruttare questo tempo morto per portarmi avanti col lavoro. altro. Ancora altri consigli, tenere in ordine il più possibile perché l'ordine ci aiuta a lavorare sicuramente in modo migliore. Imparare a dire di no, e questo è fondamentale, imparare a dire di no alle interruzioni, imparare di dire di no magari a certi clienti che ci portano una pratica che in quel momento per noi non è importante. Imparare a chiedere aiuto quando ovviamente abbiamo bisogno di aiuto e questo è fondamentale. Io trovo ad esempio molta noia nel sistemare la posta o nel fare il controllo delle scadenze eccetera, veramente una cosa che mi dà noia terribile, però ho scoperto che da quando lo faccio in coppia con i miei collaboratori diventa più piacevole e in più ci sono quattro occhi che controllano le scadenze eccetera. Ci avviciniamo alla fine, uccidere King Kong finché piccolo. E questo è fondamentale, cioè quando King Kong è diventato grande ucciderlo è molto difficile e quindi noi dobbiamo prevenire tutti i problemi a monte, evitare che veramente il mostro diventi grande. Ho fatto prima l'esempio di dover trasmettere il fascicolo al collega che sta lontano, aspettiamo gli ultimi giorni e quindi dobbiamo chiamare il corriere perché non c'è più tempo. Se noi riusciamo a prevenire le urgenze, se riusciamo a evitare che il problema diventi così grande, ad esempio che ne so, prendere l'abitudine di notificare l'intimazione testimoniale 25 giorni prima, 30 giorni prima, in modo che se la notifica non va a buon fine abbiamo tutto il tempo per fare le ricerche, abbiamo tutto il tempo per ripetere la notifica e non siamo invece presi dall'ansia perché rischiamo una decadenza. E infine monitorare tutto ciò che è stato fatto. Questo è molto importante. Noi ad esempio un consiglio che danno è prendete cinque giorni della settimana, da lunedì al venerdì, fate un esperimento, monitorate tutto quello che avete fatto in questi cinque giorni, segnate tutto, il tempo dedicato agli spostamenti, le telefonate che avete fatto, le lettere che avete spedito, per fare una mappa precisa e dettagliata di come è stato gestito il tempo. Perché soltanto con un'analisi di come noi gestiamo il tempo possiamo capire se ci sono degli interventi da fare oppure se la nostra gestione del tempo è ottimale. E infine farsi la domanda magica. Io sono assolutamente un sostenitore delle domande. Le domande di qualità producono una vita di qualità. Se noi ci facciamo domande di qualità abbiamo risposte di qualità. E la domanda magica è che dobbiamo farci costantemente. In questo momento sto facendo il miglior uso del mio tempo? Obiettivamente. In questo momento. Questa è una domanda che noi dobbiamo ripeterci più volte perché la tentazione di ricadere in distrazioni, internet, poi oggi con il collegamento permanente, internet, è una grande distrazione e anche un grande problema perché ci sono numerosi casi di dipendenza da internet. Allora in questo momento sto facendo il miglior uso del mio tempo? È una domanda che dobbiamo ripeterci costantemente. Mi sto concentrando su attività importanti per me? Su attività che fanno la differenza? Su attività che mi portano valore? Oppure sto sprecando il mio tempo? Perché purtroppo il tempo non è illimitato. Grazie. 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 Grazie.